ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft questo è il mio terzo video e siamo su mineplex allora oggi farò un po' dei giochi tipo survival games, sky wars, tutti quelli che faccio di solito vabbè dai cominciamo con sky wars direi che è il mio gioco preferito questo siamo sul terzo video di minecraft ho un po' di soldi eh allora c'è che farlo ah un po' dico mi posso cambiare questo e non c'è a video allora vai ciao che faccia ? cavolo ci fa sto tipo qua e va ciao pollo ciao polli adesso siamo su sky wars e spero che no no spero che non mi ammazzano che io se mi ammazzano faccio un urlo c'hai cercato eh ciao ciao qualora mi vuole ammazzare quindi mi volevo uccidere ma non ce l'ha fatta ok mi vuole ammazzare vado e ok ok mi vuole ammazzare ok 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 ma va a dormire ci sono le zanzare che mi stanno pungendo di brutto poi ste confini che mi fanno un caldo grazie per avermi tirato di dragons mi dispiace che non ho fatto il video però qua a dragon sovi ho vinto e adesso provo e provo a rifarlo dragon style a me piace star sempre sopra perché ho più spazio sono più in alto e quindi c'è perché ci sono tre piani qua uno qua uno lì e uno sotto quindi direi che è meglio quello sopra quindi vanno tutti qui mamma mia mamma mia se scatta non ho mai visto scattare così il mio computer c'è non è mio c'è il mio per minecraft allora c'è trego spero sono deciso basta che non voglio subito che mi dà una mappa decente ok no ma perchè ma perchè profina mappa la più brutta che c'è proprio me la devo vedere la mente cosa per la testa a trago mi ha messo il culetto e il faccio no l'ho detto l'ho detto che passava subito da me perchè sono infatti no ho parlato Che cavolo Siamo due sti in pochi Dai Bravi Non attaccate Oh no No Ma come Ma come Come sono scivola Sì Il mondo ancora Non so dove Non so E' a vento di brutto sto qua Perché era una zona che era Se tipo un'ora qua Era vantaggiato Perché tipo i draghi ti scavano sotto Quindi era vantaggiato Tanto Metto un po' di musica Vai Pigliato Ti ho pigliato Morta Morta Zitto Per favore Fammi fare la Si possono muovere questi Io le becco Ditti Ma che me ne frega Quanti cosi Che cavolo stai facendo Do Ma 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 Ah Le liane sono un pochino più grosse Quindi dai Questo mondo mi va bene Per la prima volta Un mondo che mi va bene Mamma mia Se non ci arrivo neanche No Mi avete distrutto la mia pianta No Non ci arrivo Vabbè resto qua Che credo che sia un bel posto Non mi laggare Minecraft 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 Draghi No Ci sono andati qua un po' No Canti giù No No Canti giù No No Scorso grand Ti giù ti giuro sei grande non so Quello Lo Bu Bu oh ma io non capisco questi scivoli ce ne scivola poi quello che ha ammazzato più gente perché ammazzati tre con una gelma che aveva lui ho messo un po' tutto ok dai scimmia scimmia oh sei incantata la scimmia è incantata ma cosa fate voi due tranquilli voglio entrare anch'io ma io metto la bomba aha e adesso è mia bomba 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 ma quanti bombe metto io le bombe ahi ahi e che cavolo ahi ciao addio Sara Connor! Sì! Che cavolo me ne frega questa canzoncina! Che cavolo di nome hai brutto schifo? Oh che cavolo! Eh ciao! 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 siamo in 9 in una mappa che non mi piace affatto la più piccola che c'è in questo gioco e non mi piace il tetto si va per forza tutti nel tetto e direi che Sarah Connor era davvero scarsa e per favore non state tutti qua grazie fammi pallare e taglio oh cosa è successo cosa mi ha fatto non ho mai visto un'uccisione così qua non vuole suicidio totale questo si chiama suicidio totale quello mi sa che era ubriaco perché si è buttato in una maniera è buttato così no voi non ruberete mai il mio carboncino il mio carboncino è troppo buono adesso mi è schifo buttatelo via buttatelo via buttatelo ho detto buttatelo guarda vince questo secondo me no carboncino carboncino ti salvo io è morto carboncino no che dove sono oh mamma oh mamma sto salendo o sto scendendo vabbè oh mamma che stufa so stufa dai faccio l'ultima e spero che mi dai il villaggio sarà con non è troppo scarsa eh ringrazio qua che me ne frega vabbè è uguale ho dieci secondi per per boh vabbè comunque dieci nove otto sette sei cinque ho fatto tre due uno mi sono stufa all'uno all'uno eh Sarah Connor tu sei morta per prima e quindi ta 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 ops ops no ho scorreggiato ancora il gioco eh ovviamente mi ha scorreggiato in faccia questa to anche tu lo vuoi? mmm la metà mi viene chiesto gioco sono davvero forte ma a volte ma non dico questo villaggio il villaggio dove c'è la neve è non questo oh e che cavolo io sto qua sto qui oh il mio posticino il mio posticino caro mi difenderà per sempre per sempre non l'hanno distrutto è brutta schifo no no ci entro io qua no nooo e come mi sono salvato in una maniera incredibile mi ha bucato oh basta aia aia e dai e dai secondo me io non ho dovuto fare quel salto lì mi si è baggata tutta la partita cioè l'ha baggata tutta 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 ma tutta cioè io avevo possibilità di vincere che non so che che numeri ho fatto dopo tutti i cosi di me vabbè faccio survival games c'è ancora un po' di partite poi schiodo ciao ciao ah dai lui lo provo a cercare e vediamo se è mio amico ma non mi ricordo neanche più la sua faccia vabbè comunque gioco non mi servono amici che servono ah pss continuo a ruttare in ste puntate ma ma tanto non fa male ruttare va bene digerisci no quello è la spada eh quello è la spadina quello è la spadina oh oh e io me ne scappo scappo farmi finire la frase invece di scoppiare la bomba se mi date un'arma entro anch'io nella mischia e e datemi un'arma aspetta aspetta c'è la cesta qua cosa ho fatto scappare scappare e adesso mi devo cercare una una un tavolo dell'incantesimo perché mi voglio potenziare l'armatura devo ammazzare per forza uno sennò poi non riesco a potenziarmi questa questa ascia così non c'è ma mi devo cercare non c'è ma mi devo cercare in una maniera ci sono un po di cesto non c'è niente mi hanno rubato tutto ok non c'è neanche un tavolo da lavoro brutti ha ammazzato questo quello che mi stava più simpatico e comunque dai il uomo cassa è morto e adesso è diventato una cassa vuota aveva i diamanti prima dentro e adesso c'è la cacca dentro no il tavolo da lavoro magari è qua in mezzo ci ho creduto per un secondo mano non c'è tanto diamo se c'è un tavolo dell'incantesimo ma ho scherzato ma l'ho trovato ovviamente qua e la papà lo schifo è passato per lui per me del bambino me ne frega un tubo sto modificando la pubblicità e con solo le zucche dalla cacca dalla natura alla cacca le zucche dalla cacca dalla cacca è difficile che bello! Ricordati, il caschetto serve sempre, con la spippa, credi di farmi male con quella cosa lì? No, tranquillo. Ma ce la faccio arrivare a 2000? Che cavolo fai tu? Survival Games comunque mi piace un po'. Dopo tutti i colpi che gli ho dato quel tipo, era già morto. Non c'aveva neanche l'armatura, c'aveva una schifezza dell'armatura. Mi ha dato i punti. Mio! No! Oh! Datemi gemme! E datemi gemme! Ma le dà le gemme se le prendi! E' mia! Oh! Ah! Qui ci sono gemme gratis! Dai, vado. Odio sta mappa, ma ci devo provare. One, two, three, wrestle! Vai. No! Ho sbagliato il primo passo! Il primo passo... Corri! Ah! La spada! E poi due ore, quello lì che guardava il cesto non lo ha neanche preso, un tubo. Ahia! Ahia! Basta! Io non faccio più, sto gioco! Basta! Io non faccio più! Oh! Ho faccio Snake! Ho faccio Snake! Ho faccio Snake! Ho faccio Snake! Ho, ho faccio Snake! no mi hai proprio rotto le scatole tu e lo sai adesso e dai oh mi stai rompendo mi stai proprio rompendo non mi rompere no dove sto andando basta fammi andare oh mamma mia lo smettete voi me ne frega se mi picchiate dai 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 ciao ciao oh sei un maschio aia 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 oh oh no sei una donna non ti avevo visto sei Alex aia aia ma sono che adesso faccio seriamente anch'io basta schifo 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 e taglie ehi dove scappi? dove credi di scappare? ti ho visto eh ti vedo ti vedo ti vedo io ti vedo io ti vedo che schiappa ha capito che non deve giocare contro di me non ammazzano Alex se non deve ammazzare è morto Alex è morto Alex è morto morto aia sono un assassino allora e vince il campione Matti 1603 Snake è il mio gioco quindi faccio Snake questo è il mio gioco preferito schiappa ti ho battuto hai visto che non dovevi giocare contro di me schiappa mi confondo con i colori tutto colore sta mappa è un colore due colori tre colori quattro colori cinque colori sette colori sette mila colori un colore due colori ha schifo questo è mio no hai visto questa è la mia mappa sfortunata ma non so cosa succede a volte succede anche agli altri ho visto prima che uno si stava smontando non so perché succede guarda non sta a partiti lui si è smontato o è un treppo no si è smontato si è smontato un tipo vabbè faccio un po' di partiti ancora se no il video dura troppo c'è puoi togliarlo c'è mia brutta sorella ehi ci vado io la 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 sono più veloce di te sorella schiappe tutto mio qua sorella non me l'hai presa lo zotto aia oh cugino che cavolo fai? mi fai male cosa è successo? beh perché ho le bane oh mamma che schifo le mani bagnate su fradice ehi che cavolo vuoi? e dai dai provaci hai visto che schiappa? si dai 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 schiappa schiappa che sei tu che schiappa che sei tu e vai io ho le nuove ma che bello questa però è bella questa è bella dai mi piace io do un mi piace uno si è suicidato questo è il salvamento total quanto odio quando siamo troppi lo strider dai zio zio sto lo stridero Grazie a tutti. Io sono un campione Snake! Io sono un campione! Ma perché è proprio Snake? Perché sono bravo a scontrarmi. Io ho fatto due anni di autoscontro, cioè io ho due anni di autoscontro e arrivo Snake di Minecraft. Ma ho vinto due alte oggi. Ci può essere anche la tripla. Ehm? No, secondo me non c'è. Qui ho fatto un giro e per fortuna che quella è una mappa nuova. Che cavolo mi guardi tu? Ehi! Che cerchi? No! No! Che vuoi fare, Jill? Dai! No, no! Questa è la mia mappa sortunata! No, io questa non la voglio fare. Poi quando siamo in pochi mi sembra che succede. Con me si suicidia ogni volta! È Mr. Suicidio, infatti. One morto. Che ammazzetto io. Se no non dicevo one morto, dicevo due morte. Due morti. Non succede ancora. Vodka! Vodka! La tripletta! La tripletta! La mattia! Non ci posso credere! È la prima volta, cioè. Ti faccio tre... La tripla? Viva! Ma no, davvero. Sto vincendo tutte di fila. Spero che non ne vincano un'altra. Ma non me ne ero neanche accorto che eravamo rimasti in due. Io ho fatto così. Girando. Guardavo un po' il passaggio. Poi sono trovato quello lì davanti. All'arrientatore. E poi ho vinto. No, ma davvero siamo pochi. No, no. Io resto qua. E vai. Se me sei, metto che metto... Meglio che metto la musica. Ti prendo. Ti è preso. No. No! No, mi vuole prendere! Maialino, ciao! Ciao, teoro! Adoro i maiali io. Però quali piccoli, non quali mombro. Mbbro. Oh, quanto odio quando non riesco a dire una parola e dico... Bleh! Sai saltare, maiale? Sa saltare? Sai fare il parkour, invece? Io sono... Sono forte a fare il parkour. Aia! Che schifo! Il parkour sto facendo! No! Troppo lungo era! Sì, ma siamo i topi, per favore, non fatemi agitare! Kitty Cat! Kitty Cat! Sei una donna! Ma questa è la mia canzone! Non me la ricordo più! Non mi ricordo se è la mia canzone o no! 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 Quello mi sta antipatico! Come fa? Adesso è già morto! E' anche il piano iniziato! Ora non è possi... Mi è successo ancora! E' un problema! Io non parlo, perché tanto succede lo stesso! Ma muoiono tutti! Mamma mia, che scarsi che sono quelli... Corri! No! E' morto! Sa per fare un numero! Secondo me vince il giallo! Secondo me vince il nero! Grazie! Secondo me vince il giallo! Già morto! Secondo me vince il nero! Già morto! Se stavolta però, non fatemi sto scherzo! E' morto! Qua! Controlo quando siamo in tanti! Secondo me! Perché siamo in tanti comunque! Non sento la musica! In tanti! Ah! Ah! Non scappare! Sei tu? Sì, ciao! E dai! E poi, almeno salutare! Sei tu? Io pensavo che erano maschi! No! Non so dove andare! Non è mai meglio andare in mezzo! Sono sempre tutti da due parti! Sì! Sì! Già morto uno! Possiamo riappazzarlo io! Non so! Già! un po' lungo il mio no l'ho peccato io come fa a aver due file questo oh cavolo sei lungo corro con te brutto no hai anche lui il campione della situazione ma io ho vinto tre volte di fila lo sai c'è sto qua una volta adesso ma dai allora ciao vado sopra magari dom domani o dopo domani farò un video di minecraft o padre figlio così tale padre tale figlio così il canale il nome del canale e vabbè magari farò o uno o l'altro questo mi fa ridere chi sei no la copre no devo schiacciare questo ti prego che siamo già in tanti ma schiaccia lo schiaccia 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 questo coso schiaccia non c'è ma ci ho vinto cosa fa cosa ha fatto cosa ha fatto non sapeva no scusa scusa mamma mia non non sapeva come si giocava no lo ammazzava no capito e time aia ma perchè mi sento stringere oh no ma povero però fai giro io tengo il marrone ma credo che perdo finché vince 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 star ha fatto la s al contrario e no il mio amico stava per ammazzare il mio amico è stato il mio amico è stato il mio amico è stato un po' mappolino e non c'è un po' mappolino e che me ne frega del nome questo non è questo video è venuto bene perché ho vinto tre volte Spero che guardate questo video Perché è davvero bello Tu che cavolo stai facendo? Questo è il mio amico Però questo brutto schifo Con il brufolo nella bocca E' ammazzato Quindi ti meriti La boom boom No, la boom boom Non l'ho neanche centrato Dai Fuori, esplodi Sii, è esploso Adesso ti metti tutte queste bombe No Si Non ho giusto Non ho giusto Non ho giusto Noooo Nooooo Nooo 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 Dove sono? Dove sono? Nooo Sono dentro un albero Un albero di Natale Un albero di Natale Nooo Io me ne vado via Come si fa? Nooo Io guarderò qua Che bello Che bello guardate qua Non si vede un tubo Grazie Guarda Guarda Io corro più veloce Che becora Più lento ti raggiungo anche te e vai no adesso siamo 3 a 2 per me tu non mi batterai tu proprio no invece mi batterò sei brutto Vickstar si sei andato Vickstar sei andato Vickstar arreso hai arreso Vickstar sei troppo forte ma io ti ho battuto sei brutto schifo lo sai non si abbandona in una battaglia fra nemici e rivali che parkour che parkour grandissimo lo sta facendo con me mio amico ahio chi è che mi spara chi cavolo fa quello lì ha sparato ma ha sparato tanto meno mi becchi sai ciao no no non ce l'ho fatta questa è tipo una di quelle che mi ha tolto le pecore grazie grazie per averti suicidato non 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 che vuole spaccare io vado in mezzo in mezzo al mondo no 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 mi son fatto una mossa da solo sono stupido sì siamo in nove siamo una volta che dico una cosa poi non succede ma vado a dormire il mio mino comunque è orrendo che cavolo è ero con il cappello da da ragazzino dodici anni dai dieci dieci va bene dieci ma non undici eh non undici no eh non undici bravo per una volta mi da ascolto minecraft ah non ci arrivo neanche rincorsa no non ci può arrivare il romino mi sa rincorsa magari si prende un pochino più di rincorsa che cavolo guarda guarda si buttano lì ma che schiappa sei non si buttano lì andiamo nuova tipo questa è nuova e già e già non è bella catiuscia oh mamma però sono rimasti già in due questa mappa davvero orrenda guarda 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 questa non questa mappa è è davvero orrenda mamma mia mi ha fatto scrivere un tubo come è uguale ormai la mappa sembra via quindi dai però eh faccio così eh mi butto via carta straccio ah che no voglio rivedere una cosa giuro giuro ma quanto è piccolo sta cosa è proprio una cosa piccola eh e arrivo anch'io no no posso con te ciao 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 ah 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 era lì l'abbiamo incontrata non ce lo so credere dai abbiamo incontrato un amico l'amico nudo è un nudista cos'è questa cosa è nuova no amico nudista no amichi amichi amici bella mossa è tiro d'artile e fai veloce mamma mia lentezza oh che spavento però eh sono rimasti tu bastava fare una manovra semplice una manovra semplice ha vinto storm ma storm ma storm che è la prima volta che diceva nooo battaglia fra amici perchè quella la era quella che c'era prima nooo ho 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 sulle ultime due partite poi direi di compito via vabbè di concludere qui il video con matti 1603 dai però eh sì metto musica per aumentare un po' il volume della zona e vai lo prendo ah che mira la schifo che ho oh mamma ma che velocità sei tu ma allora non è possibile l'ho preso l'ho preso alla fine l'ho preso eh dai questa qui e anche questa su la guarnizione è venuta bene la guarnizione è venuta bene la guarnizione è venuta bene non è E' matti 1603 Quadro Troppo forte Dai ultima partita Poi ci salutiamo E qua si è una sposta E ovviamente Come si chiama? Brai Brai Ok direi che sto video Ho vinto un po' troppe volte Quindi Un po' Un po' ho vinto Un po' ho vinto troppo E' brutto il video che vinci sempre Vabbè dai Ci saranno giorni Giorni peggiori Ciao Oh ma si nasconde sempre lì Bella scherza Che fai? Cosa fai? No prego non abbandonarmi No Non abbandonare Non abbandonare matti 1603 Non abbandonarmi Oh se dico che Bravo Brava Brava Oh Fui che dà ci freddo Ciao Vai mamma l'ho ferita sembra grave ciao allora dai però cioè iniziamo molto dura per fare una partita è vero qui c'è un buco non c'è mai stato vero? cioè nell'ultima puntata non c'era questo no no io questa no però è vero qui c'è un buco L'Ace è per i pretzels Cinque C'è, non ho mai vinto così tante volte in vita mia In un giorno Allora, concludiamo questo video Ciao a tutti da Matti 16 Ciao